Mi trovo a Secinaro. Mi voglio soffermare un attimo qui. Questo tratto lo faccio a piedi con la bici in mano. Questa praticamente è la parte antica di Secinaro. Guardate, beh, qualcuno è stato ripatto il tetto, però nel complesso è storia qui. Guardate, vado a casa, poi faccio le ricerche su internet. Vedete come si chiama sta zona? Sicuramente si stende pure sopra. Guardate com'è bello, suggestivo e caratteristico. Continuo a camminare. Vediamo qui un altro poco. Sì. E mi soffermo in particolare, ecco a Secinaro. Fammi ingrandire. So perché c'è la chiesa nel cattedrale, il castello, non lo so. Ciao. Ciao. Grazie.